Buongiorno a tutti, buongiorno amici. Oggi ci troviamo nella casa delle Suore Pie Operaie di San Giuseppe. Ecco qui con noi, Suor Felicita, superiore di questa casa. Buongiorno. Oggi abbiamo un piacere di venire qui da te, da voi, da queste Suore meravigliose che hanno anche un albergo qua, casa di accoglienza per i pellegrini e sicuramente molti, molti coloro che ci guardano sanno, conoscono già questo albergo perché loro anche fanno accoglienza a tante persone che vengono qua all'ospedale a curarsi, a fare le loro cure. Quindi, Suor Felicita, io vorrei oggi chiederti chi è stata la vostra fondatrice? Come si chiamava? Madre Maria Agnese Tribbioli. In che anno ha fondato il vostro istituto? Nel 1918, quindi all'inizio di questo secolo scorso. Ecco, Suor Felicita, io subito passo a questa domanda perché è molto interessante la storia. Come mai voi vi trovate qui a San Giovanni Rotondo? Per volere di padre figlio. Ecco, per volere di padre Pio. Allora, nel 1901 fu aperta la casa a Foggia, dove praticamente... E la superiore di allora era Suor Cecioni Aurora, era figlia spirituale di padre Pio e saliva su a San Giovanni, il padre. Fino fra gli anni 40, praticamente i pellegrini che venivano su da padre Pio, tanti, insomma, erano tutti fuori, dormivano fuori, non c'era alberghi, non c'era niente, in questi tempi, proprio... Allora, a madre, a Suor Aurora, chiese se le suori potessero salire su per aprire, insomma, un alloggio per i pellegrini, perché era abbastanza anche preoccupato. Era preoccupato perché i pellegrini erano fuori, sotto agli alberi dormivano, perché poi stavano tanto tempo, allora per la confessione di padre non era come... c'era i suoi tempi, insomma, poi praticamente la madre, Sora Aurora, cioè la nostra fondatrice, madre generale, infatti si attuarono a questo, dette il permesso di sì, poi la madre generale si è incontrata diverse volte con padre Pio, anche lei veniva su a San Giovanni, si incontrò, praticamente, e negli anni 40, verso gli anni 40, fu aperto questa casa, che era una casa addicente, proprio malmessa, che era di una signorina dell'Argentina, che credo che doveva essere in donazione anche a padre Pio, però lui li mandò, questa signora, disse, vai dalle suore più operaie, insomma, a darla a lei come donazione, insomma, a noi. Ha donato a voi, per questo scopo di raccogliere i pellegrini. Sì, per questo scopo di raccogliere i pellegrini. Poi è stata tutta ristrutturata, in quei tempi lì, con madre Aurora, e andarono avanti a questo. E fu a riaperto nel 1952. Padre Pio, il 19 di marzo, per la festa di San Giuseppe, scese dal convento e gli ha dato la benedizione a stanza per stanza, la benedizione, eccetera, della nostra fondatrice, e poi la superiore di Foggia. È bello questo, perché vedi, c'è incredibile padre Pio che anche pensava di tutti quei pellegrini, quei penitenti, quelli che venivano da lui, a confessarsi, a chiedere i consigli. Pensava anche che loro non hanno dove dormire, appoggiare il capo. Quindi ha chiamato voi che questo non è il vostro proprio carisma, fondare gli alberghi, vero? No, è l'unico che abbiamo. Cosa ha fatto e com'è? Noi abbiamo, cioè, sempre stato sui poveri. Sui poveri, sì, lavorato con i poveri. Affoggio, lavorato, vanno anche nelle carceri, le scuole, con i bambini, con le scuole. Tutto questo carisma, noi, il nostro, le scuole, sugli ultimi, diciamo, per le persone bisognose, per qualsiasi, e le scuole, per l'educazione, per i bambini. Poi siamo in Italia, missione, siamo India, Brasile. Siete in diverse parti del mondo. India, Brasile e Romania. Sì, sì. Però, veramente molto bello. Quindi, poi, avete aperto questo albergo qua, più grande, no? È stato anche per necessità. Perché avete pensato di fare? Allora, questo albero qui, anche questo, questo terreno dove ora si risiede l'hotel, questo è in donazione di Padre Fio. Sempre lui ha donato, sì. Nel 1000, questo si parla verso il 60, perché praticamente, là, era molto più piccolo, era rimasto, e allora fu donato, questo è da una signora di Pescara. Questo terreno qua. Terreno qui. Padre Fio mandò questa signora di Pescara. Fu fatto come compromesso, però questa signora poi non l'hanno più ritrovata, hanno più rivista, lasciato così. È stato proprio il passato del tempo, è andato praticamente, è venuto come regalato poi a noi. Però, ai tempi, poi, dopo iniziarono lavori, quando è iniziato i lavori, qui a metà lavori, arrivava il punto che non c'erano più soldi per pagare sia i fornitori, sia i lavori, sia gli operai. Allora chiesero permesso, cioè l'aiuto, il consiglio a Padre Fio, arrivare le suore, con la madre che era già morta, c'era la sora Aurora, sempre la superiore di Foggia, le altre suore, di vendere il conventino. Con la prima casa. Con la prima casa, lui si chiama conventino Francescano, ora prima era in casa per l'accoglienza. Insomma, da Padre Fio per venderlo. E il padre gli risposta, dice, no, di venderlo no, perché lì c'è tutta la mia benedizione per la congregazione, perché se vendete il conventino, perdete anche l'hotel. Mamma mia. Infatti adesso in questo conventino voi accogliete i bambini d'estate. D'estate, i nostri bambini di Foggia, che abbiamo i bambini in nostra Foggia. Ecco, in d'estate finisce le scuole fino a arrivano loro bambini. Stanno qua a passare l'estate. Per noi è una reliquia, ecco il conventino, è la congregazione, è proprio una reliquia. Perché Padre Fio ha detto che qui ci sarà la sua benedizione. È questa che regge pure questo albergo. Sì, ed è vero, si sente la presenza. Dice qui, perché dice no, dice sopra no. Perché se vendete il conventino, perdete anche l'hotel. Perché lì c'è tutta la mia benedizione per la congregazione. Ecco, Sir Felicità, noi sappiamo che qui in questo albergo, qualsiasi persona che viene qua, trova una casa, un cuore che batte. Ecco, voi sicuramente anche accompagnate queste persone, ogni persona, ogni pellegrino, che non è un qualcuno così, qualsiasi, ma è Gesù che busta nella vostra porta. E voi accompagnate queste persone sofferenti, spesse volte che vengono qua, con la preghiera e con... E con l'ascolto. L'ascolto, sì. Qualsiasi cosa, purtroppo ci sono famiglie proprio che hanno bisogno di tanto. Di tanto. Questa sofferenza sia di salute anche spiritualmente per i figli, nella preghiera e non soltanto. È una parola che si può dire. Quindi non è un albergo, ma è una casa. È una casa, accoglienza proprio per il pellegrino, qualsiasi bisogno che ha, spiritualmente anche. Le parole, con la parola del Signore, abbiamo la nostra cappella qui. Bello, sì. Allora, cari amici, questo è per oggi tutto. Vi ringraziamo per questo ascolto. Ecco, ringraziamo a Sor Felicità. Vi auguriamo buona e santa giornata, accompagnandovi con la nostra preghiera. Pace e bene. Pace e bene.